Una nuova tragedia sanitaria potrebbe essersi consumata all'ospedale dell'Annunziata a Cosenza. Il condizionale è d'obbligo ma fino a un certo punto, quando si parla di sanità in Calabria. Ci riferiamo alla morte di una donna di 69 anni deceduta dopo due giorni di agonia. La vittima, tra l'altro madre del consigliere comunale di Cosenza, l'avvocato Gisberto Spadafora, è stata ricoverata d'urgenza la scorsa domenica sera con un codice rosso. Nel pronto soccorso entra a conforti dolori addominali e allinguine. La donna era stata sottoposta ad un'operazione qualche settimana prima ad una fistola nel reparto di chirurgia vascolare e qui potrebbero avere avuto inizio i problemi della mamma del consigliere comunale perché sembrerebbe che nel levare il sandino dalla gamba sarebbe stata perforata l'arteria femorale. Fatto sta che la donna, una volta ricoverata, riceve le prime cure il giorno dopo dove le viene effettuata una dialisi per poi essere rimandata nuovamente al pronto soccorso. Qui staziona su una barella per altre 24 ore tra dolori all'addome e all'inguine. Prima che le vengano fatti i primi check-up, tra cui un'attacca addominare, dove il quadro clinico appare subito grave, tant'è che viene trasferita subito nel reparto di medicina d'urgenza, dove iniziano a fare delle flebbo. Una terapia insufficiente perché nel frattempo continua a perdere sangue e i dolori all'addome e all'inguine permangono. Solo su sollecitazione del figlio, che si accorge che qualcosa non andava, arriva il chirurgo vascolare che dopo una prima visita comprende che il quadro clinico della paziente era ormai compromessa ed infatti viene immediatamente operata. Intervento che purtroppo non è servito a niente perché la signora viene trasferita in rianimazione in coma e il giorno dopo, mercoledì pomeriggio, cessa di vivere. Da qui la decisione del figlio di presentare un esposto alla procura della Repubblica di Cosenza. L'inchiesta è coordinata dal procuratore Mario Spagnolo e dell'Aggiunto Marisa Manzini ed è stata affidata al PM Emanuele Greco, i quali hanno acquisito immediatamente la cartella clinica e lunedì prossimo verrà eseguito anche l'esame autoptico.